host 2019 non siamo al tg oreca ma allo stand di panafe quello di commerciale adriatica srl proprietaria del marchio panafe e ci troviamo in compagnia di federica gobbi la responsabile commerciale dell'azienda che molto gentilmente ha consentito a questa mia seduta al banco dell'accoglienza per riuscire a farci riposare qui gli spazi sono davvero grandi credetemi buongiorno federica bentornata grazie grazie mille buongiorno a tutti e allora spieghiamo a tutti loro che cosa presentate nello specifico in questa 41esima edizione di host allora quest'anno abbiamo presentato tantissime novità ci siamo concentrati sì sulle macchine piccole ma abbiamo deciso di investire nel made in italy e nel settore oreca e delle macchine semi professionali abbiamo dato vita a 12 nuove macchine sia capsule che a cialde doppio gruppo tre gruppi con boiler e soprattutto col capuccinatore automatico ma la novità più esclusiva è la macchina col caffè shakerato che abbiamo presentato in questa fiera una vera e propria novità per fare sia caffè shakerati granite tutti i derivati del caffè diciamo che siamo in continuo movimento non ci fermiamo mai tu sei un fiume in piena ma anche l'azienda la mente di questa azienda la mente paolo costa di tutte queste idee che bisogna stargli dietro voi ci riuscite in modo davvero brillante riuscite a far evolvere quelle che sono le sue idee e metterle in pratica concretamente riuscendo poi a presentare al mercato delle macchine assolutamente innovative ed esclusive quest'anno abbiamo fatto macchine per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza da quelle a cialde a quelle a capsule col cappuccinatore automatico la lancia dell'acqua calda frontale in carbonio piedini regolabili in altità cioè la macchina te la puoi costruire te e panafè te la fa qui in italia e per entrare in contatto con panafè senza alcun impegno per poter scrivere a voi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poterlo fare o promozione chiocciola commerciale adriatica punto com oppure commerciale adriatica chiocciola commerciale adriatica punto com nel frattempo vogliamo dire che cosa avete preparato per l'oreca e il micro oreca abbiamo preparato le macchine sia capsule doppie che ne abbiamo chiamato di due sia beta che è la macchina a cialde a doppio gruppo con lancia vapore e capuccinatore con l'optional del capuccinatore automatico la stessa può essere per capsule in espresso e poi abbiamo presentato quelle a un gruppo solo con boiler e capuccinatore automatico e lancia dell'acqua calda tutte con lo scaldatatte possibilità di allacciamento alla rete idrica e allora grazie saluto a tutti loro grazie a tutti e buona fiera grazie a tutti